buongiorno cari studenti come state oggi con voi impariamo a chiedere indicazioni stradali penso che questo sia un tema molto importante per tutti cominciamo assalamualecom quindi lei è riposato come state che dove una cosa anche come si può avere una domanda cosa come una cosa che se si coltasse con la partecipazione è un video che non è cambiare come si è unرا di applicazione anche il secondo giro è quello che non dice il modo viene vedere le ritmo di in tutto quindi per il proprio interesse lezione noi facciamo attenzione al vocabulario sistematico come sempre. Demek chardo in gideg, biz darsini boj l'eishten alden, aynan ma vizu geteggis l'eboleans, ozlarna qarab c'hamez. La strada demek kocha degana, il pedone, yoloche, la moto, motocicl, il semaforo, svetafor, la fermata dell'autobus, avtobus, becata, san sovietato taqaq belgis, divieto di sosta tohtash mumkin emas, belgis, la bicicletta velosiped, il furgone furgone, l'inkrocio, c'orraxa, il segnale stradale bu yol belgis, il camion yuk masinas, il marcia piede trattuar, il vigile dan qadama, l'estri ishe il passaggio pedonale, piaudalar, otesh, yul agie. Adesu impariyamo aki edare, edare, informacioni stradali. Demek, khazer, sizlar bilen, yul kursatmalar na bieresh, haraket kursatmalar na bieresh, yuki soresh, qande bolshini italian tal da qarab c'hamez. Ok, vediamo i piccoli diyalogi, demek, kichkina diyaloglar qarab c'hamez. Demek, a, scusi, doveviya mansoni, kichra sas, mansoni koch asa qayarta? B, deve proseguire fino a l'inkrocio e poi girare a sinistra. A, c'arraha gie c'ha ketavira sas, uusha yul izdan brul mastan, va, kiyan, c'arraha da esa čapka brul asas. Demek, girare brul maq, sinistra čapta man, adesra onta man digan. B, deve proseguire, uusha irgi asib ket maq, uusha yun alishten ket maq di targi maq le nade. Ok, posso andare con la macchina in piazza garibaldi? No, no n'e posibile, perke et zon pedonale. Garibaldi, maidani gie, mašina da borsan boledama? Yook, uier, piadalar uchum mulja lengan jai. Yani, mašinalar yur mai digan yul. Piazza maidon, posibile, mumkin, ilaj bar. Zon pedonale piadalar yur adigan khudod. Quale il, percorso piubraeve per raggiungere a piade l'ospedale? Kaisi yul, inkskai yul, kaisal khani gie, piada yeta barish uchun. Viyama meli, fiina ijar dini, paaya da istra, corso milano, aprima del pontea sinistra, viala del repubblica. Demek, bi, jawab bir maqta. Ma meli, koch asidan? Baaglar gieche barasiz, kien onge, milan koch asige brulasiz, kien koprikten alden, čapka, rispubblica hiyabani gie uchengiz karek boled. Ok, il percorso demek yul digan, piubraeve inkskai. Raggiungere jete bar moq, a piade piode, l'ospedale šfokone, il ponte koprik, il viale hiyabon. Devo andare al ponte nuovo. Mi puoi indicare la strada. Jan gie koprikke borish um karek. Men gie kocheno korseta bi borol me i sisma. Deve proseguire per cirka 200 metri fino al semaforo. Poi prende seconda traversa a destra. Demek, bu yerdä siz kechengiz karek, 200 metrča, svetaforge ca, yurub kechengiz karek, toxtamastan irgashib kechengiz karek, kien onge tamandagi ikkinci yolunu tanleysiz. Indikare demek, korsatmaq. Chirka chamas, fino a, gaccha, prende seconda traversa, ikkinci burum kechengiz karek. Ikkinci taro kochega, kirmak, degan, manone anglata da. Ok. Mi sa diere, dove si trova ili či nema aristoan? Ai tol, ma i sisma aristoan kino uj kajer dačoleškian? E in via mazzini al numero 25. Mazzini, ko čas da? Jigurma bišinci, rakam li. Uj. Per favore, mi sa dire a che ora passa l'autobus numero 28? Kechera sez? Jigurma sa kizinci, rakam li. Avtobus, kacchano ta da? Alle 10 e 30. On jaram da. Per piacere, dove posso komprar ili biljetto per l'autobus? Per piacere. Per piacere. Boerda, memnuniyat bilen. Kechera sez? Per ai tol, biu bora al mai sez? Qagirdan avtobus biljetan. Alle biu al sambole da? Dal jorna laio. Dal jorna laio. Demak? Aynen. Gajetelar sota digan, joj dan. Olšingin smunkchen. Le preposizioni di luogo e le locuzioni preposizionali forniscono detali specifici utilissimi quando si danno indicazioni stradali. Le preposizioni piu komuni kasi u zano intel kazasono. Demak? Bu gabte nkorishimiz mummkinkie. Demak? Jai predloglar. Ya ki bol masam. Predloglar shkan. Kharkal berikmalar. Predloglar orqali. Yasalgi an kharkal berikmalar. Jai namlaro u chan kollan ladigyan berikmalar. Aynen yul kursatmalar da berishta. Jude kenkollan lari ken. Khoidau larini ber niče faal larini. Yani enkob kollan ladigyan larini. Korib chkameh siz bilan. Misalan, vicino a. Vicino a. Yaqnada digan manana iletada. Lasko a la. Citro ve vicino al cinemam. Maktab. Kino a yin yaknada jalashkan. Afyanko. Afyanko di. Demak? Yana da yaqnada manolarda. Yombashi da manolarda. Kollan ladda. Dietro a. Orqa sida. Difrante a. Fača a fača. Demak kars sida. Yuzma yuz jalashkan. Davanti a. Demak bu. Davanti digan. Old da. Nel mezzo di. Demak orta sida. Tra. Ora sida. Akkanto. Akkanto demak. Yon da. Kyabu manolarda. Angliata reikyan. Kari studenti. Oggi con voi abbiamo imparato le parole che noi potremmo usare per dare oppure chiedere le indicazioni stradali. Demak bu. Nel mezzo di. Yolda. Kollan laddigan. Korsat malarna. Biere. Succioni. Kisora. Succioni. Kollan laddigan. Brik malarna. Koreb. Kori. Kori. Adesso il compito, vi do un compito che voi a casa dovete scrivere un piccolo dialogo, dovete formare un dialogo usando per esempio quattro oppure sei frasi e quando voi potete scrivere, potete scrivere le domande e le risposte che abbiamo visto oggi. Che come abbiamo visto oggi piccoli dialogi e potete usare le parole nuove. Demak se si gievo i gievo a zifè. Bugun korib cifransoz l'armi zanfoi dalanip. Kicicicic. Tur. Tabishta da niporat bolgan kicina dialoglar tu sub. Ma vzunum sta xiam la xingiz gierak bolada. Ok. Grazie per attenzione. Finiamo lezione. Presto. Vi auguro una giornata bella. Ciao. Arrivederci. Oh. Dai.